Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Mundo i Cubi Ragazzi in seguito all'ultimo episodio sono costretto a dover utilizzare Veramente anzi no cosa faccio? No non lo farò, non utilizzo tanto ferro Andrò ad utilizzare le armature che abbiamo là Quindi faremo altre cose ovvero due minecart che si fanno così Ok perfetto E delle rail che si fanno così se non sbaglio spero, mi auguro Ehm attimo se mi sbagliavo No perfetto, due stack da 64 Non potevo chiedere di meglio Andiamo quindi a caricare i nostri villager Che appunto nell'ultimo episodio dovevamo con tanta tanta fatica Veramente molta fatica trasformato Sono morto due volte per trasformarli, bloccarli eccetera eccetera Ehm sarebbe figo anche fare una postazione per diciamo Ehm il bloccaggio dei villager Per diciamo intrappolarli e poterli convertire Comunque adesso appunto andiamo a fare questo lavoretto Che sarà molto 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 semplice Allora andiamo a rompere questi due blocchi Ok andiamo a spingere il villager farmer qua dentro Ok andiamo a fare questa cosa qua Ok ora con il nostro piccone Togliamo tutta la pietra superflua Perfetto E andiamo a caricare i villager Come si fa? Allora piazziamo appunto in terra Delle rail Perfetto qua facciamo un piccolo buchino Ok Qua non si possono impiazzare quindi metterò poi in blocco completo Ma va bene Qua posso cominciare a togliere parte del mattone Ok adesso vi spiego cosa bisogna fare E' veramente una cavolata ragazzi Allora bisogna mettere un minecart E spingerci il villager dentro In questo caso non ci è andata molto bene Cavolo Facciamo così No Ho fatto un'altra cavolata Perfetto Ok Rimandiamo il minecart dentro Vai su Dai Lo facciamo? Cosa succede? Cosa succede? Ok Un altro minecart qua Dai Oh mamma mia ma Sei tardo eh amico Sei veramente tardo Allora Vai Caricato? Si Perfetto Quindi Adesso togliamo tutta la pietra Ok E' un lavoro un po' di pazienza questo eh Quello che sto per fare Però poi vedrete che Ne sarà valsa la pena Ok Allora Ok Fantastico Adesso abbiamo i nostri due villager Li spingiamo là Ok E adesso Comincia appunto la parte più noiosa Ovvero la parte in cui adesso Toglierò i blocchi Superflui Quindi tipo Questo qua è un blocco superfluo per ora Ok Questo e questo E andrò a sostituire con questi Non con delle frecce ma con questi Ok Perfetto Tu amico spottati un secondo Anche te per favore Grazie Perché qua devo operare Devo fare una operazione di fino Ok Ok perfetto E tac Perfetto Allora adesso qua appunto mettiamo delle rail In modo che i nostri villager possano uscire fuori Da questa Da questo posto Ok Fantastico E niente Adesso non farò altro che spingerli fuori Poi farò una Adeguata Stradina che li porti laggiù Si sarà una cosa veramente noiosa Quindi logicamente farò un taglio Già lasciatemi un like per il taglio che sto per fare Perché veramente sarà una cosa Non noiosa di più Perché ci vorrà molto E niente qua adesso appunto appunto Piazzo già un po' di rail Vi faccio vedere indicativamente la strada che faremo Per futuro l'hanno fatte un bel po' Quindi non dovrei fare molta fatica Ok Qua ne ho ancora uno stack Così vedete Un albo sul mio cammino Bene Ti butto via Perfetto Qua appunto si comincia a salire Perfetto Continuiamo a salire Ok Dovemmo essere quasi arrivati Forza Eh si Bisognerà spingere un bel po' Per farli arrivare fin quassù Però penso che ce la possiamo fare tranquillamente Ok Qua sta di nuovo facendo notte Quindi devo anche muovermi ragazzi Penso che devo andare a dormire Si Perché il lavoro va fatto rigorosamente di giorno Ed ecco la zona che ho preparato per i villager Poi andremo appunto a farli A copiare A copiare Riprodurre Diciamo come volete voi Ehm Ok qua girerà E arriverà dritto dritto Guardate le rail sono bastate perfettamente Arriverà dritto dritto Alla zona Alla zona X Perfetto Qua mettiamo giusto dei blocchi Ok perfetto E arriveranno qua E quindi ragazzi Vado a dormire Vado a controllare che non si spawnino i zombie Che non vadano a uccidere i villager Perché veramente sarebbe un casino allucinante Oddio Ci sono già spawnati i 700 zombie Eccolo là Oddio No l'ho visto l'ho visto Ragazzi l'ho visto Oddio Ragazzi Guardatelo là Guardatelo là Maledetto Stai lontano dai miei amici Vai via Ok Calma 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 Allora calma Vai a dormire ferre Vai a dormire ferre Vai a dormire Un altro zombie no Vai lontano dai miei amici Vai lontano Stai lontano dai miei amici Vaglia Ok vai a dormire Veloce Veloce non c'è più tempo Veloce Ok I villager sembrano salvi Dormi in fretta su Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ok Ce l'abbiamo fatta ragazzi Oddio che fatica Allora Adesso Facciamo così Visto che Quello zombie Era malintenzionato A te Ti Diciamo Nascondo A te ti non è proprio Il massimo dell'italiano Lo so Però A te Ti lascio Ecco No a te ti lascio E comunque è sempre sbagliato Che cavolo sto dicendo Non lo so E Ecco Vedete che Che cosa è stato sto rumore Ok E comunque vedete che Il libro si bugga Si glitcha dentro Alla Alla pietra E niente Comunque adesso appunto Lo spingo qua E adesso andrò a fare questa cosa noiosissima Ovvero a spingerli Fì lassù Vedete spesso volentieri Succederà questo Ovvero torneranno indietro Quindi per questo Che sarà veramente noioso Quindi faccio un piccolo ostacolo Ragazzi Li porto entrambi lassù E ci vediamo tra poco Ok ragazzi Rieccoci Mi sono messo Al lavoro E guardate un pochettino Ho cominciato a utilizzare Le armature droppate Come vedete Sono Quasi tutte quante Incantate E Non costano niente È vero Non saranno il massimo Ma non costano nulla E danno comunque Discretamente Abbastanza La barra Della Della armatura Vedete qua Ho questi stivali Che vi ricordo Che l'armatura di Miley È la mia preferita Queste qua di ferro Questo qua che ha Indistruttibilità E protezione E questo è il metto Sono soddisfatto Sì E comunque Come vedete qua Ho cominciato i lavori E qua abbiamo Una prima cella Con i villager Che adesso Andremo a Modificare No non andremo a modificare Adesso E Ho anche preso La pala Super Hyper Power Poi vi spiego Anche perché Vabbè no Ve lo spiego subito Guardate In un secondo Con questa roba Guardate È un trapano In un secondo Posso tirar via Tutto quello che voglio Guardate Faccio track E via E comunque Ne ho messo Un cubetto là sopra Che si sta già Diffondendo E ho costruito Questa piccola Tettaforma Che è distante Due blocchi da terra Perché Perché adesso Mettendo Il nostro Regno qua E facendoci Un'altra Crafting table Che terremo qua Penso per tutto Il lavoro Sì Andrò a costruire Le prime due porte Perché voglio Far riprodurre I villager Quindi andiamo A piazzare Le porte Così si attiveranno Tutte Ok Qua vado a fare Ancora una striscia Poi per essere sicuro Che si attivino Ok Adesso Andrò Appunto All'interno Di questa costruzione Mi chiuderò Un secondo dentro Andrò a rompere I Minecart Si voi vi buggerete Ma solo per Un povero Poi uscirete Capirete Di aver sbagliato Sì Capirete Di aver sbagliato Un giorno E E niente ragazzi Quindi adesso li lascio lì Che si sbaggano E nel frattempo Comincio con i lavori Che lavori farò Allora Visto che È una farm Che comunque Richiede Abbastanza Di spenso Di fatiche Oddio Non ho già più spazio Cavolo Cosa butto? Oh ma ho delle casse Quindi facciamo una bella cosa Vado a fare appunto Una Postazione Tra virgolette Di lavoro Con La crafting table E con Due casse Ok Dove dentro Metterò un paio di cosette Inutili va Giusto per Non soffocare Negli item Ok E niente appunto Cosa andrò a fare Visto che è una farm Che appunto Come dicevo È abbastanza dura Da fare Andrò Prima di tutto Ad abbattere Tanti alberi Di questi qua Normali di quercia Perché vuole farla Tutta quanta Questa farm In legno Voglio farla Con lo stile Delle case Dei villager Non so se vi ricordate Quella che avevo portato Sul canale di Francis Drake Che era Tutta di Inferno Mi sembra Si Ebbene Andrò a fare Questa volta Stile casa gigante Dei villager Non so perché Però Penso che ci starà bene Anche perché Vi ricordo che Lo stile Di quarzo E queste cose qua Con questo stile Diciamo Sciccoso Lo terrò Soltanto nella casa Dove farò Lo storage Dei materiali E anche per quello Avevo bisogno In tanti hopper Perché come Avete parlato Sulla pagina facebook Infatti vi ricordo che Chi segue anche La pagina facebook Spesso Dialoga con me E insieme Decidiamo anche Cosa fare Infatti ci sono Vari utenti Faccio un nome così Come per esempio Antonio Che so che mi segue Mi manda sempre Un sacco di screenshot Ma ho fatto giusto Un nome Non state guardare Che ho fatto una preferenza Rispetto agli altri Perché È un iscritto Caro come tutti gli altri E Però appunto Ho fatto un nome così Perché è uno degli utenti Che mi via sempre screenshot Uh qua Siamo sbagati Bravi Cominciate a fare L'amore No Va bene Andiamo a fare un po' di porte Noi allora Track Ok Oddio Problema Devo posare un po' di roba Sì Ok ragazzi Eccoci Ho sistemato un pochettino L'inventario E ho cominciato a piazzare Un paio di porte Ne ho piazzate un bel po' Ne piazzerò ancora Un bel po' Perché voglio far riprodurre Questi villager Stavo pensando Che però Bisogna stare attenti Sì Perché se Sti villager Si riproducono E lo faranno Sì guardateli Ne hanno veramente Intenzione E Ci saranno dei piccoli problemi Perché il villager Piccolo Può scappare Quindi è meglio stare attenti E tu Cosa fai furbo Si può scappare Perché può saltare un blocco Quindi Qua piazzerò altre porte Ancora Sì Quindi li piazziamo qua Perfect Ok E direi che qua Dovrebbero già cominciare A lavorare Per non dire altro E Niente Qua prendo un copo di terra Cosa farò adesso Farò un Disboscamento Devastante Veramente Devastante E Una cosa di questo Genere Guardate che efficienza E' una goduria Vederla questa palla Guardate E ci da tutta l'erba Con C'è tutta la terra Con l'erba sopra Ah Che bello Mi pilla tutta l'erba Opla E qua continuo Devevo vedere Ragazzi divertentissimo Ok Perfetto Quindi direi che Di altezza Per la base Visto che Cercherò anche di essere Piuttosto preciso Anche se l'ho già fatto vedere Molte volte Nella costruzione di questa farm Per gli iscritti nuovi Voglio farla vedere Perché comunque E' in assoluto La farm Più Importante Per me E Qua I villageri Secondo me Non si vogliono riprodurre Perché Ci deve essere Un perché Forse perché Qua ci vanno due blocchi Proviamo un pochettino A far così Allora Qua però Devo buttare giù Questo albero Quindi Un'altra cosa Un'altra cosa Che andrò a fare E buttare giù Un bel po' Di albo E tanto ho bisogno Di legno Anche se a casa Ne ho un bel po' Quindi potrei utilizzare Anche tutto quello Che ho a casa Ma Perché ho preso Tutta questa terra Oddio Non mi serve Allora Andiamo piuttosto A Fare un secondo strato Qua perché ho paura Che ci vogliano due blocchi Sopra le porte Non mi ricordo bene Comunque adesso Provo a mettere due blocchi Perché voglio attivare Le porte E speriamo che Comincino a riprodursi Questi villager Forza Tutti quanti aspettano Questo Piccolo Villager LOL Ok Cosa ne dite Di Fare un baby villager No? Niente Ok Quando ve la sentite Scrivetemi Scrivetemi Un messaggio privato Su youtube Grazie Ok Bando le cavolate Buttiamo giù Anche questa roba qua Ok comunque dicevo che Diciamo a livello di altezza Teremo questo Perché va bene Si E Invece andremo a cambiare La larghezza E Comincerò a fare un paio di muri Butterò Giù un po' di questi alberi E quindi faccio questo Piccolo stacco E ci vediamo tra poco Ok ragazzi Rieccoci Sono qua Come vedete Ho fatto già gran parte del lavoro E faccio vedere come è venuto Off camera Cioè come è venuto Il lavoro off camera Eccolo qua Vedete La prima parte sarà il legno Ma a tanto verrà coperta dal bosco Quindi darà Diciamo solo l'effetto Della luce Arriverà da lì Diciamo che per il resto Ho cominciato a impostare La base della farm Che sarà Appunto con questi quattro blocchi Famosissimi Con le porte Con l'acqua Ma logicamente Ormai in questo video Non riuscivo più a fare Nessun Nessuna spiegazione Infatti il tutorial Vero e proprio Sarà nel prossimo episodio Dove appunto Vi do appuntamento Ci sarà il tutorial Della farm di ferro Con tanto di attivazione Eccetera eccetera Diciamo che come Obiettivo di questo video Abbiamo fatto riprodurre Veramente tanti Tanti villager Adesso come vedete Lavorando off camera Se ne sono riprodotti Veramente tanti Ne abbiamo Sette Giusto? Sì? No? Cosa dico? Sette? Sì? Ok? E E le porte che avevo qua Le sono andate a togliere Perché appunto così Si calmano un attimino E le sono andate a mettere In questo modo Perché l'ho messo così? Cosa servono le porte? Anche se L'avete capito Che servono per fare Il produrre villager E Come si deve mettere l'acqua Come si devono mettere I villager Eccetera eccetera Lo spiegherò Nel prossimo video Nel tutorial E Comunque siamo già A un buon lavoro Ragazzi Siamo già a gran parte Del lavoro E Vi dico solo più una cosa Ovvero che Da adesso in poi Appena avrò il ferro Che comincia ad arrivare E Farò una cosa Ovvero Cosa farò Andrò a Creare Tante farm Che Magari Possono sembrare costose Possono sembrare da creativa Ma in realtà Con il ferro Possiamo creare hopper Possiamo creare arnesi Possiamo creare tutto col ferro Quindi Col ferro potremo creare Delle farm Anche da modalità creativa Delle cose Abbastanza epiche E di qua Direi che Appunto Quando attiveremo Quella farm Comincerà Veramente Un mondo in cubi Perché comincerà con tutte le farm E con quello che so fare Quindi Prima di salutarvi Apro il libro Degli iscritti Come vedete ho già aggiunto L'obiettivo Giardino nel nether Che vi ha consigliato un iscritto Family blades E appunto la casa Perché da finire anche la casa E vado a fare i saluti di oggi Che sono per Del orde nerone Per Libomir Libomir Scusa Per Fasa Per Darchetto Ita Quindi ragazzi Io vi ringrazio Ringrazio anche chi appunto Non l'ho salutato Ringrazio tutti Spero che il video vi sia piaciuto Quindi appunto Come al solito Vi invito a lasciare un like Perché Youtube E' stronzo A commentare Dicendomi Quali altri farm Volete vedere Tipo Volete vedere una farm Di blades Anche se non sapete come farla Ditemi un commento Adesso la farm di blades L'ho già detta io Però se volete vedere altre farm Scrivetelo in un commento Io mi ingegnerò E cercherò di portarvele Un giorno Primo o poi Ci proverò ragazzi E Appunto L'importante sono le idee Le idee E l'impegno Che mi date ogni giorno voi E Seguendomi Quindi è vero Grazie di tutto ragazzi Prima di chiudere Vi faccio vedere un piccolo bug Ovvero se noi Entriamo qua A metà di una porta E la chiudiamo Rimaniamo all'interno della porta E possiamo salire E saltare di due blocchi Come vedete Wow Ok detto questo ragazzi Io come al solito Vi ringrazio Spero che il video Vi sia piaciuto Quindi vi do appuntamento domani Con la fine E l'attivazione Della farm Se riusciremo Spero di si E quindi Ciao a tutti E al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti